Salve amici del Centro Meteo Italiano. Aria molto fredda nel weekend e poi arrivo dell'anticiclone per la prossima settimana. Ma vediamo la tendenza. Tra sabato e domenica le nevicate si concentreranno sul medio-basso versante adriatico e al sud. Si tratterà di fenomeni irregolari e intermittenti ma con fiocchi possibili fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Apice del freddo tra domenica e lunedì con valori minimi diffusamente sotto lo zero e massime di poco sopra, specie al centro nord. Nel corso della prossima settimana i modelli confermano l'arrivo di un promontorio anticiclonico che porterà a un miglioramento delle condizioni meteo e un aumento delle temperature soprattutto in quota e nei valori di giorni. Incertezza elevata a seguire con l'alta pressione che potrebbe tentare una nuova risalita facendo da blocco alle correnti atlantiche. Trattandosi però di tendenze seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.